eccoci qui buonasera è appena finita la partita e c'è grandissima delusione mi appoggio anche veramente grandissima delusione perché stasera poteva davvero dare un senso diverso alla nostra stagione vincere ci avrebbe dato oltre i punti anche una nuova motivazione perché stasera sono viste delle cose buone ne avremo modo di parlare sia oggi che domani perché poi adesso faremo due chiacchiere così giusto a caldo poi dopo domani facciamo un'analisi un pochino più approfondita perché c'è tanto da dire su questa partita intanto partiamo col fatto che piori l'aveva preparata bene e col fatto che difendiamo attacchiamo male questo è il riassunto della gara quindi il mister l'aveva preparata bene e anche provato a vincerla poi perché ha inserito leao e dopo alla fine si è rivelato un cambio sbagliato ma sul momento secondo me pacchettà era l'unico che poteva essere tolto per provare ad andare a cercare un po più la profondità cosa che c'è la noglu non dava però ha dato tanto altro ha giocato sicuramente un'eccellente partita poi vediamo ai singoli purtroppo però non siamo per niente pericolosi non siamo per niente pericolosi non facciamo tiri abbiamo segnato per caso nel senso che piontech è stato bravo andare su quel pallone poi però se bastos non vada via non non segni più e siamo stati male a difendere siamo andati male quando abbiamo dovuto difendere perché sul primo goal della lazio ci sono almeno due problemi il primo è che teo ornandez è troppo avanti e da quella parte lazari li è andato via tante volte nel primo tempo infatti poi teo nella ripresa è stato un pochino più accorto nella posizione e poi duarte che si fa anticipare così da immobile allora adesso io capisco che il ciro immobile è un signor attaccante e che ha scelto il tempo giusto è stato molto bravo però in serie a un difensore non può farsi fregare così mi è ricordato un gol di card in un derby di qualche anno fa mi pare il primo del primo derby dei cinesi e quindi ne abbiamo consegnato poi dopo la lazio la squadra che quando arriva negli ultimi 20 25 metri è veramente formidabile cioè fa degli scambi delle giocate che sono difficili da leggere per tutti e soprattutto per noi da questo punto di vista mi è piaciuta molto la parità di krunic che ha giocato molto bene il primo tempo e in aiuto bene la ripresa tant'è che credo che che si per un bel periodo ce lo possiamo dimenticare deve giocare krunic che non è un fuoriclasse però un giocatore che dà di più rispetto a che si in questo momento per questa squadra che tra l'altro stasera ha giocato col 433 non siamo andati dietro a strani moduli vm cosa del genere mi ha giocato semplice e soprattutto pioli secondo me questa sera va elogiato per aver cominciato un'opera di pulizia ci stiamo togliendo finalmente un po di quello che avevamo e che ci aveva portato a fare le partite orrende in inizio stagione quindi la richessi secondo me non avrebbe giocato nemmeno calabria se musacchio non si fosse fatto male castiglieco sfigato all'infinito perché stava giocando la sua migliore partita da quando al milan e si è fatto male e krunic benasser a centrocampo scelta logica scelta logica anche benasser ha iniziato male anche lui poi dopo quando ha cominciato a riprendersi ha fatto veramente una buonissima partita e poi dopo ci sono i problemi come detto difesa attacco e dopo anche i subentrati cioè rebic va bene per fare a spallate con i difensori avversari proprio quando c'è da giocare a pallone è malissimo non ha non ha veramente un'idea non non ha nemmeno lo spunto cioè me lo aspettavo molto più dominante non dal punto di vista anche della progressione palla al piede invece non ha fatto praticamente niente da quella parte e pionta che è andato via da cerbi una volta sola in occasione del gol è bastato per amore di dio anche con la spalla è stato pionta che ha perdersi la punizione però per tutto il resto malissimo ma anche lì poi dopo farò un video prima o poi dove parlerò della mia vi dirò la mia opinione su pionte perché non abbiamo mai parlato è chiaro che è un giocatore al quale non puoi pretendere di dialogare perché non ha la tecnica per scambiare il pallone con i compagni ce l'ha per scambiare con gli avversari appunto lapsus però non puoi pretendere che faccia un certo tipo di gioco pionte che un attaccante che deve essere servito in un certo modo però se tu non riesci a farlo e pionte che ti diventa uno che corre tanto che si dà da fare che però non combina niente oggi c'è a cerbi nel secondo tempo veramente in pantofo le contro di lui è veramente in pantofo leao va assolutamente preso e messo nello spogliatoio nello spogliatoio e appeso al famoso chiodo perché tu non puoi entrare in campo con questo atteggiamento si può cioè non sei nessuno se un ragazzo di tina che vent'anni se nessuno deve entrare in campo e mordere e mangiare l'erba come hanno fatto benasser come ha fatto crunic come fateo capito questi qua questo è lo spirito che voglio dico perché sono dispiaciuto sono dispiaciuto per questi ragazzi perché questa sera questi ragazzi hanno fatto un'ottima partita veramente sono sono un po affranto perché se perdiamo queste partite così sarà difficile dare un senso a questa stagione ormai praticamente è andata perché per il quarto posto vediamo che grazie a squadra ci sono persino il cagliari e lassù l'atalanta il napoli la roma la lazio è assolutamente impossibile l'europa league non interessa non interessa nessuno fate che quest'anno abbiamo abbiamo rinunciato addirittura a parteciparvi per cui l'obiettivo quale sarà non lo so cercare di dare un minimo di identità a questa squadra questo punto di vista pioli sta facendo anche un buon lavoro solo che è partita in operare stasera poi dopo ripeto questa disamina va fatta anche un po mente fredda perché poi alla fine lui voleva vincerla ci ha provato e la lazio ci ha beccati scoperti in contropiede ci ha fatto dopo può capitare con la partita come hanno detto anche i telecronisti giustamente una partita equilibrata che poteva finire da un lato dall'altro solo che noi non tiriamo in porta e quindi finire dal nostro lato sarebbe stato sarebbe stato molto difficile non arrivando mai dalle parti stracosci e quindi devo dire che bene gli innesti nuovi però io sono convinto che questa squadra poi dopo parliamo un minuto di chanaglu questa squadra debba andare verso un altro modulo cioè teo deve giocare più avanzato non deve preoccuparsi più di tanto di cosa succedere alle sue spalle perché tanto non è che gli interessi molto comunque e e dobbiamo avere un altro giocatore sulla destra calabria stasera si poi dopo si è ripreso un po con qualche intervento però in generale giocatore modesto che non che non dà nessuna garanzia più di tre centrali vanno devono giocare loro è ovvio che poi dici beh però abbiamo solo quelli caldara non torna non so però qualcosa dobbiamo inventarci perché così continuiamo a perdere abbiamo perso di nuovo quindi per me il mister ha in mente qualcosa stasera è andato sul semplice e stava anche pagando sul chanaglu vuole dire che stasera ha giocato anche meglio che con il lecce ha fatto una bella partita di grande intensità di leadership quasi di qualità di determinazione di grinta poi alla fine non ne aveva più a dire vero non ne aveva più già all'inizio del secondo tempo quasi perché ha problemi di atletismo ma questo ce lo siamo già detti giocatore con una caratteristica atletica degli anni 80 però finché ce l'ha avuto ha fatto ha fatto una buonissimissima partita veramente abbiamo abbiamo un problema dell'attacco abbiamo l'attacco segniamo pochissimo segniamo male nel senso che calcio in punizione autogol mezzo rimbalzo un terzino che entra tira col destro cioè non facciamo gol puliti e nonostante la voglia di pioli di giocare molto in verticale e questo è un problema enorme che va risolto in qualche modo o cambiando modulo oppure continuando ad esistere così però sapendo che possiamo andare incontro ancora n partite senza vittoria probabilmente quella domenica prossima non è che la contiamo perché anche se noi dovessimo fare bene comunque loro sappiamo che in un modo o in un altro devono vincere soprattutto quest'anno che non giocano anche bene come ieri sera col torino dopo giochiamo in casa con napoli però c'è la sosta di mezzo ed è un casino quindi momento difficile psicologicamente stasera speravo veramente di fare risultato perché i ragazzi se lo smeritavano e si sarebbero caricati ancora di più in vista di torino invece così usciamo sconfitti si sono proprio abbattuti cioè preso il gol siamo completamente spariti al campo morti morti proprio psicologicamente è stata ammazzata tremenda speriamo speriamo che però mister riesca a far capire ai ragazzi le cose buone che sono state fatte stasera e che riesca a porre rimedio alle cose male fatte stasera cioè attacco inesistente e difesa che deve essere assolutamente rimodulata perché duarte non ha fatto male però poi alla fine i gol nascono da non ha fatto male e non ha fatto male perché i gol nascono da mancata copertura su immobile primo gol rilancio sbilenco sul secondo e palla sui piedi di salberto che è l'unica cosa che non dovevi fare stasera la lazio perché amirinkovic savage inesistente e correa non aveva fatto niente praticamente fino a quel momento a parte insomma qualche passaggio ma si sa che ha la tecnica e quindi l'unica cosa che non dovevi fare era mettere palla sui piedi di ruisse alberto e lui l'ha messo sui piedi ruisse alberto e abbiamo preso il gol vabbè in ogni caso no te porta consiglio adesso domani parleremo un pochino più a mente fredda cercheremo di fare delle considerazioni anche e soprattutto in prospettiva cioè dove deve andare questo mina da che parte deve andare per cercare almeno di rendere dignitosa una stagione che sta andando veramente veramente a rotoli non dimenticatevi di mettere un like se il video vi è piaciuto e di condividerlo se avete voglia se la mia opinione vi sembra condivisibile per l'appunto e noi ci sentiamo domani